Allora, anche per avvicinarvi di più a quello che vedrete, io vi racconterò tre piccoli fatti di cui sono stato testimone insieme a Vanni, che danno un'idea del suo carattere e anche di quel quarto cuore che credo si possa aggiungere. Allora, primo aprile 1965, funerali di Mario Maffai. Nella clinica dove Maffai è morto è schierato tutto il partito, l'ongo in testa, e tutto l'apparato nel realismo di quegli anni. Naturalmente, a parte, viste le lotte che c'erano state negli anni precedenti, c'erano gli amici che avevano amato Maffai. Parlo dei quattro del gruppo Forma, Turchato, Dorazio, Perilli e Consagra. Al centro, piangente, la donna che lo aveva difeso per tutta la vita e che lo aveva anche tante volte rimproverato. Nel momento in cui bisognava prendere la bara, una persona si avvicinò all'ongo e subito dopo tutto questo apparato si allontanò, perché era arrivato un funzionario da Mosca. e Consagra fu il primo ad avvicinarsi alla bara insieme a Sacripanti e altri due artisti per alzarla e portarla verso il carro funebre. Raffael, che poteva o doveva avvicinarsi agli artisti insieme al principe del realismo di quegli anni, scelse proprio quegli artisti con i quali non aveva nulla a che vedere. E questo colpì Vanni. Negli anni a venire, nonostante non avesse mai incontrato la Raffael, andammo a casa sua e nel giro di pochi anni uscì il catalogo della scultura e nel decimo anniversario della morte di Maffai pubblicò i disegni satirici rivolti alla guerra. 1975. Il premio Nobel viene assegnato a Eugenio Montale. Alcuni anni prima era diventato anche senatore a vita. Immaginate cosa si scatena a Roma, perché allora l'Italia era divisa per i poeti che amavano Uncaretti e quelli che lo davano Montale. Ma chi si scatenò più di tutti fu Leonardo Sinisgalli, che in quel momento si trovava a potenza e aveva fatto uscire sul settimanale dove collaborava allora un articolo dove dire che denigrava Montale era poco. Montale che si scaccolava, Montale che faceva rumore col cucchiaio mentre beveva il brodo e così via. naturalmente questo fece imbestialire Vanni che abituato a fare lettere aperte ne preparò una in cui ricordava a Sinisgalli che pur essendo stato il primo ad essere pubblicato dal padre le famose 16 poesie del 1930 18 poesie del 1936 e il gioco del secolo non era proprio il caso che arrivasse a queste forme di una volgarità inositata naturalmente Sinisgalli prese la cosa come era lui abituato tornava subito indietro però al tempo stesso mi lanciava dice se vado a Milano io l'ho tenuto sulle ginocchia ce lo rimetto e gli do tante di quelle pacche sul sedere che se lo ricorda naturalmente questa battuta fece ridere Vanni e Sinisgalli fu perdonato 1976 24 novembre mi dispiace di raccontarvi due funerali funerale di Antonio Pizzuto l'ex prefetto diventato scrittore che molto ha influito sostenuto da Gianfranco Contini l'autore di signorina Rosina di giunte virgole e così via che tanto aveva influito anche sul gruppo 63 al funerale eravamo in quattro una cosa impressionante con me c'erano Vanni Gianfranco Contini e Albino Pierro mentre diceva la messa il prete e subito dopo mentre la bara si allontanava in chiesa e fuori Albino Pierro tampinava Gianfranco Contini preoccupato solo del suo libro che doveva uscire nei giorni successivi immaginate immaginate come Vanni si impestia lì e come affrontò subito dopo Albino Pierro diceva è modo di fare questo ma non ti vergogni lui ascoltava con grande calma e frettezza e alla fine guardando Vanni negli occhi con quel sorrisetto sotto i suoi baffi d'Alpino dice ma ma tu lo sai chiede domani deve uscire il mio libro quindi vedete anche allora Vanni non fece altro che sorridere grazie ecco possiamo proiettare il film e poi ritorniamo al tavolo e chiediamo i vostri contributi